Macfrutt è una fiera diversa, è l'unica fiera di filiera, nel senso che qui c'è tutto, dal seme fino al prodotto finito, con tutto quello che riguarda tecnologie, servizi, packaging, soprattutto direi la parte tecnologica rappresenta da sempre il punto di forza di questa fiera. È una fiera che è cresciuta enormemente, io credo che anche i primi riscontri che abbiamo da punto di vista delle presenze, quest'anno sarà l'anno della svolta. I oppositori non sono cresciuti, in quanto tale sono sempre 1100 aziende, come era lo scorso anno, ma la superficie espositiva è cresciuta del 10%. I visitatori aspettiamo la fine. Grazie a tutti.